Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati sul mio canale, sono David Sono qui oggi con questo quinto episodio della serie Allora Eravamo rimasti che stavo costruendo la casa ma in realtà non mi sono accorto che non ho registrato Io sono andato avanti, come vedete la casa è praticamente finita Ho smistato le varie cose, ho messo tutte le ceste di terra, legna Qua ci sono le armi, fornaci e quant'altro Qua ci sono tutti i diamanti e tutte le cose che abbiamo raccolto in giro Tutto ragazzi, tutto Tutto quello che abbiamo trovato Quando abbiamo posizionato il letto, forse questo l'abbiamo visto nel quarto episodio E anche quando ho fatto il cammino secondo me non ho registrato il soffitto e nient'altro Vabbè niente, sono le prime serie, le prime cagatine ci stanno Quindi che cosa dire Allora, ricapitoliamo Non c'è niente Metterò sovrimpressione la foto Allora Andiamo giù Andiamo prima a fare Vi metterò in sovrimpressione la foto Degli obiettivi Allora Che erano Costruire una casa almeno di due piani La casa di due piani l'abbiamo fatta Non è granché Io vi ripeto, non sono un bravissimo costruttore Proprio non me ne intendo Granché Poi C'era Creare un letto Il letto l'abbiamo fatto Andare nel nether Nel nether ci siamo andati Raccogliere la nether track L'abbiamo fatto Creare un generatore di cobblestone L'abbiamo fatto Anzi guardate Faciamolo insieme Ok Questo è questo Questo è questo Allora ragazzi Volevo 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 fare Volevo fare Per completare la serie Perché questo sarà l'ultimo video Il sesto video non Non ha senso farlo anche perché abbiamo quasi finito Allora Mi serve Questo Questo Più questo E Tricket Abbiamo la leva Ok Mi chiamo questo qua Mi chiamo questo qua Mi chiamo questo qua Ok Questo è un posto qua Mi chiamo questo qua Mi chiamo questo qua Mi chiamo questo qua Mi chiamo questo qua Ok Sì Propriamente Ok Proprio Okay Spero Llega È perfetto facciamo il nostro bel generatore è autonomo perfetto, quindi arriva a un massimo di 12 blocchi poi si dovrebbe fermare esatto, e noi che facciamo? lo raccogliamo era giusto per completare la questa in modo corretto se non sbaglio ci mettiamo anche una torcia poi lo possiamo fermare del tutto eh si adesso per fermare il circuito basta fare così e tiriamo via la corrente comunque quindi questa l'abbiamo fatta abbiamo rispecchiato tutto mettiamo secchi e pistone quindi andare nel nether fatto costruire una casa di doppiani fatto ah ok ci sono ci sono ci sono dobbiamo dobbiamo fare la farm quindi ci serve la zappa e la facciamo di diamante perchè noi siamo troppo powa noi siamo powa ok quindi poi secchio la pala ce l'abbiamo la pala? dove erano gli attrezzi qua? minchia troppo powa pure la pala vaffanculo 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 si vai anche la pala di darpi sdrymond dai corri pezzo di merda grande ok eeeh mmm la cobblestone no non ci serve la cobblestone no no allora noi vogliamo farla qua facciamola qui perchi 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 allora facciamo così eeeh ok eeeh ok 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 andiamo solo a cantare eeeh 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 allora questo eeeh eeeh ok eeeh 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 ok traz ma no no che ci muoio no no che ci muoio no che ci muoio no che ci muoio no che ci muoio si è chiuso la porta si è chiuso la porta chi è la porta chi è la porta anche la porta oh no ma porco tuo ma perché ti fai saltare scusa ma chi ti ha dato il permesso ma porco merda merdissima vabbè mettiamoci la porta vedrai che non passa più nessuno no baffan cuculo allora no non esplodere più morto grazie allora stavamo dicendo 3 che 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 3 giusto per renderla effettiva tutti gli effetti effettissimamente ok allora andiamo a posare questo quindi questo 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 no queste mi servono questo qua questo è sempre cibo secchio qua lingotto lì la spada qui la zappa non mi serve più la pala non mi serve più allora mettiamo a cucinare questo vediamo se c'è con un po di eccolo qua il carbone ah è vero che la casa è dentro ragazzi che sto diventando scemo mi serve un po di questa facciamo la pixel art faccio la cosa più semplice faccio un creeperozzo di pietra che devo fare ci rivediamo appena è pronto tutta la pietra affanculo mi sfogo con te brutta merda non lo so dove è andato il creeper spero affan cuore allora vai ok poi anche questa palla non l'ho mai finita tutta ma secondo me non c'è tanto sì penso che così possa bastare sì dai muore muore sì 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 ok grande thank you vediamo se l'altezza l'è quella giusta vediamo fatemi vedere com'è la faccia di cacamo di un creeper allora allora creeper creeper fammi venire in mente se lo facciamo di stone di stone mi 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 ok di stone vabbè alla prima poi ci dobbiamo mettere questo ok no è troppo bitch up dead vuole più alta quindi trick 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 track si vuole più alta e anche più larga e anche più alta sì 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 sicuro sicuro più alta almeno di un bel po ok secondo me così la può andar bene no questo no cratino mmm e vabbè allora ok se cado muoro non muoro perfetto perfetto così 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 poi ok così 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 ok poi con la stone normale facciamo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 poi usiamo questa qui poi possiamo scendere e metterci bene in centro so che magari non è il top però non possiamo fare altro non possiamo fare altro facciamo così poi mettiamo questo e questo qua questo e questo qua poi la stone qui la stone di qua di qua così di qua così qua così qua così e va bene e dire ai ragazzi che abbiamo fatto anche il creeper ozzo si 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 abbiamo fatto il creeper ozzo perfetto però 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 praticamente dovevamo andare ancora di uno ma va bene allora a questo punto maiali ce ne abbiamo quello l'abbiamo fatto il generatore di cobblestone qua e l'abbiamo fatto il nether ci siamo andati abbiamo raccolto tutto ragazzi secondo me di là non c'è niente perché secondo me ce lo togliamo sto dubbio ce lo togliamo ma siamo sicuri ce lo togliamo ce lo togliamo sto dubbio madonna vabbè dai togliamocelo quando arrivo là vi faccio vedere allora ragazzi sto rientrando a casa ho guardato in effetti bene l'aria ho esplorato e non c'è niente lì finisce praticamente la la mappa ecco qui ho fatto un po' di ho fatto un po' di cobblestone anche per arrivare di là che mi serviva allora perfetto ragazzi la pixel art si si vede si dai diciamo che si vede dalla la casa l'abbiamo fatta stavo cercando di ricapitolare tutto quindi generatore di cobblestone l'abbiamo fatto la casa di due piani l'abbiamo fatta tre diamanti ne abbiamo raccolti anche di più siamo andati nel nether abbiamo fatto il letto cinque pietra luce l'abbiamo preso perché abbiamo fatto le lampade di glowstone ce ne sono una decina prendi la redstone l'abbiamo fatto prendi dieci nether track l'abbiamo fatto la gif l'abbiamo fatto per quanto io possa essere nabbo e più i tre lapis last quindi direi che per questa miniserie è tutto ci rivediamo tra qualche giorno con una nuova serie ma non sarò da solo ciao 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 ciao